Oh ragazzi finalmente il 24 dicembre manca pochissimo il 25 ovvero a Natale Oh è vero Bobo finalmente possiamo divertirci con i regali che ci arriveranno Esatto 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 Oh mamma mia non vedo l'oro Oh scusate un attimo Babbo Natale ma tu Babbo Natale cosa ci fai qui non dovresti essere a preparare i regali Oh sì ma certo ma volevo solamente salutarvi per un attimo So che in giro non vi faccio vedere mai però volevo salutarvi Va bene ciao Quel maledetto mio clone Ora che ci penso solo io un clone Oh gliela farò vedere io a loro Sono super rompiscatole oggi non avranno niente Ehi razzo perché ti sei messo lì? Beh non lo so mi piace stare fuori Ma fa un freddo cane Fa niente fa niente non lo sento il freddo Vabbè buonanotte A proposito dove sono Mic e gli altri? Sono andati da una parte a dormire Fatti loro Va bene buonanotte Oh perfetto si sono addormentati dopo aver dato i regali a Mic e agli altri Andiamo a loro Buon Natale Oh dormono ancora Benissimo Prendiamo questo E prendiamo questo Perfetto andiamo Alzo Fizz Svegliatevi Cosa è successo? Oh No Davvero cosa è successo ragazzi? Perché ti avete svegliato? Allora innanzitutto è mattina Ma se c'è il buio della notte? Fizz qui è sempre notte Ah giusto Va bene cosa è successo? Ci siamo svegliati E non abbiamo trovato i nostri regali Ehm a proposito Dove sono i nostri? Non ci sono Eh Bambino Natale dovrebbe averli non portati Mmm Non credo Io secondo me c'è lo zampino Di qualche cattivo Beh però io conosco Masterlight e gli altri E a Natale non sarebbero mai cattivi loro Anche se lo sono quotidianamente È vero Allora chi sarà stato? Questo è un messaggio registrato Da non so cosa Ehi come sarebbe un messaggio registrato? Eh sì È un messaggio registrato proprio da qui Ah cosa vuoi dire? Sono... È Natale O Bab Ehm chi saresti? Sono un attivo Ti va a contare Sono un attivo E sono un clone cattivo Eh cosa hai fatto? Dili che ci hai rubato un regale Esattamente Esattamente Allora come ti permetti? Adesso ti troveremo Tanta vita solo Che cosa si fa Ragazzi Oh Dimmi tutti i segreti su Natale No Devi darmi i regali Come sarà il Natale senza regali Oh sarà orribile Proprio come voglio io Ti darò il sacco se tu mi dici tutti i segreti su Natale Non lo farò mai Te lo puoi scordare Beh allora rimarrai lì per sempre Nessuno dei regali Li darò tutti per me Non per molto E voi chi sareste? Ma ci conosci già stupido Siamo gli assoluti E noi ti impediremo di importunare Babbo Natale a lungo Questo lo vedremo Provate a raggiungermi Ok Ecco il sacco Ti liberiamo Babbo Oh grazie ragazzi Per voi tanti doni Adesso vado a portare i regali alla città Ciao 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 Grazie a tutti.